Finalmente una graphic novel. Le parole possono tutto. È proprio così, eh? E proprio perché possono tutto ne bastano poche. Sono così potenti che ne bastano poche per raccontare questa storia. Sarà sufficiente osservare le immagini con occhio attento, seguire le tracce lasciate dal disegno. Questa è la storia di Sara. Una ragazza difficile. Sara frequenta il liceo. Ha numerose ferite sul corpo e anche sul viso che lei cerca di nascondere a causa di un incidente di cui lei si ritiene responsabile. I suoi genitori in seguito si sono separati e lei si ritiene responsabile anche di questo. E ora? Ora Greta, la sua unica amica, la sua migliore amica, quella che c'è sempre stata, è arrabbiata con lei. Ma questa volta non è colpa di Sara. Eh no! E questa volta no! Greta si è innamorata di Gabriele. È fino a qua. Ma Gabriele, eh? Ha fatto capire che invece è interessato a Sara. E da quel momento Greta l'ha evitata. Non le ha più rivolto la parola. Ma che colpa ne ha lei se Gabriele è un cretino? Lei certo non ne sapeva niente. E così ora Sara è arrabbiata. E per sfogare la sua rabbia, la notte scappa. E corre. Corre col suo skateboard lungo le strade deserte della sua città e dipinge, dipinge sui muri la sua rabbia. Però quella notte qualcuno la vede e la denuncia. Ed ecco un'altra volta. Un'altra volta dai servizi sociali. Allora Sara, le cose stanno così, eh? Hai davanti a te due possibilità per rimetterti in carreggiata. Fare trenta ore di pulizia nel parco insieme agli altri volontari. Oppure trenta ore alla casa di riposo. Dove potrai renderti utile nel modo che si riterrà più opportune. Ascolta Sara, sappiamo che è stato difficile tenendo conto di tutto quello che ti è successo, va bene? Però adesso basta. Eh, basta. Ora devi imparare a reagire in modo diverso. Inizia a costruire qualcosa. Fidati, questa è una buona occasione. Ma la decisione però aspetta a te. Cosa mi rispondi? E Sara sceglie. Sceglie i nonnetti. No, al parco non ci sarebbe mai andata, figuriamoci. Perché? Perché ci sono i ragazzi della scuola, non ha nessuna voglia di farsi vedere a raccogliere lattine in compagnia di un assistente sociale. Dai vecchietti, invece, si butterà su un divano, infilerà le cuffie e ascolterà un po' di musica per due ore, tre volte alla settimana. Sino a farne trenta. E poi addio. Quanto si sbaglia, Sara. Lei ancora non lo sa, ma si sbaglia di grosso. Perché la casa di riposo sta per incontrare qualcuno che la coinvolgerà in un'avventura a dir poco magica. Perché le parole possono tutto. Anche provocare una magia.